Per la casa editrice ha interpretato complessivamente 354 storie, di cui solo 12 da non protagonista. Ha avuto per colleghi attori di genere quali Franco Gasparri e Franco Dani. In televisione ha lavorato nella serie televisiva La Famiglia Benvenuti, in cui interpretava il ruolo di La Parte di Simona, la fidanzatina del figlio di Enrico Maria Salerno. Ha avuto anche una breve esperienza come interprete di teatro lavorando con Luca Ronconi, nell'allestimento dell'Orlando Furioso. Dopo essersi sposata ed aver avuto 5 figli, si è ritirata dalle scene. È scomparsa nel 2011 all'età di 59 anni.